49 dimissioni volontarie in 18 mesi. Su questa emorragia di risorse umane che Arpa Puglia registra dal gennaio 2023, il consigliere regionale Paolo Pagliaro ha acceso i riflettori della seconda commissione del Consiglio regionale con l'audizione del management dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Pagliaro ha posto una domanda secca. Perché i dipendenti Arpa, per lo più tecnici specializzati con master e dottorati, scelgono di lasciare un posto di lavoro sudato con concorso pubblico e di rinunciare alla possibilità di carriera per ricoprire ruoli meno remunerativi come l'insegnamento. In audizione è emersa la grave carenza di personale che supera di poco la metà della pianta organica e alcuni rappresentanti sindacali hanno confermato il malcontento che serpeggia tra i lavoratori per il no a legittime richieste di mobilità, smart working, lavoro agile. Tutti strumenti previsti dal contratto di lavoro e largamente adottati nelle amministrazioni pubbliche come la stessa regione Puglia perché portano risparmio e benessere dei dipendenti facilitando la conciliazione dei tempi di vita lavoro. Ma il direttore generale di Arpa, Vito Bruno, ha minimizzato parlando di dimissioni fisiologiche e rivendicando anzi uno sforzo per l'incremento del personale. Nessun problema dunque stando alla sua narrazione. Resta invece un malessere strisciante perché dietro i numeri ci sono persone, storie familiari, sacrifici e i numeri non tornano, commenta Paolo Pagliaro. Anche sul caso Taranto, con la decisione di trasferire le competenze direzionali del polo microinquinanti alla direzione scientifica di Bari, il consigliere ha incalzato il direttore generale Bruno ma la risposta è stata evasiva. Non cambierà nulla nella sostanza. E allora perché cambiare? Un caso, quello dell'esodo dei lavoratori dall'Arpa che in Commissione ha suscitato qualche reazione scomposta da consiglieri di maggioranza. Segno che abbiamo toccato un nervo scoperto, afferma Pagliaro.